Siamo con Alessandro Pepe, da poco terminata Provercelli C5 Poredia 4-4, una bella sofferenza, però un risultato che forse vi sta un po' stretto. Sì, effettivamente il risultato è un po' stretto, però come dice sempre il nostro mister, dagli errori si impara, quindi impareremo. Dobbiamo ancora imparare molto perché stiamo lavorando bene, siamo soddisfatti anche del lavoro svolto e stasera, se vi sono visti i risultati, con una squadra come la loro siamo riusciti a tenergli testa, commettendo sempre degli errori, però siamo riusciti a stargli dietro. Siete andati in vantaggio, praticamente due gol nel giro di due minuti e subito dopo vi siete fatti pareggiare. Tu hai segnato comunque una doppietta questa sera, penso che tu sia soddisfatto. Sì, sono molto soddisfatto, sto rientrando anche dalla botta in testa e i due gol subiti dopo i nostri due gol fatti, come sempre abbiamo quei cinque minuti di sbandamento che cercheremo di migliorare, togliere anche quei cinque minuti di sbandamento perché se togliamo quelli riusciamo a mantenere il vantaggio, ecco perché tolti via quelli eravamo ancora in vantaggio. Comunque un punto guadagnato in attesa di vedere che cosa hanno fatto le altre dirette concorrenti per la salvezza, però questa Pro Vercelli da inizio anno gira veramente a mille e aveste iniziato il campionato davvero a gennaio sareste in altra posizione rispetto alla lotta a salvezza. Sì, 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 è vero, è vero. Comunque tutto merito dalla società è il mister e poi noi che stiamo dietro a loro e stiamo cercando di imparare a giocare calcio a cinque, cosa che da gennaio abbiamo incominciato a fare bene. Abbiamo 12 punti mi sembra guadagnati e sudati, proprio tutti meritati. Siamo con mister Andrea Castellano, un altro punto, quarto risultato utile sulle cinque partite da inizio 2015, abbiamo detto anche con Alessandro Pepe, se aveste iniziato il campionato davvero da inizio anno sareste in un'altra posizione di classifica. Noi abbiamo iniziato iniziamo nel 2015 e quello che ci siamo previstati dall'inizio, da quando sono arrivato adesso abbiamo detto nel 2015, giorno di ritorno, cominciano a vedersi i frutti del lavoro che hanno fatto a dicembre perché da dicembre a gennaio hanno raggiunto tanto, tatticamente, fisicamente. Abbiamo affrontato una squadra che è alta in classifica, ci siamo giocati alla pari, poi per chi vede le immagini abbiamo rischiato tanto, tante volte di vincere la partita. Siamo andati in vantaggio 2-0, ripresi di 2, non mollano, è quello che mi piace di questa squadra, che non mollano più, hanno voglia di combattere e i risultati vengono, si stanno divertendo. Pur essendoci un gap di 15 punti in classifica con l'Epo Redia non si è vista tutta questa differenza questa sera? No, non si è vista tutta differenza ma perché stanno lavorando bene, hanno voglia di continuare a fare risultato, hanno un gran cuore, cosa che ormai è consitudine per tutti quanti loro e stanno incominciando anche a avere il proprio giocato di squadra, si muovono tutti, entrano tutti, giocano tutti, è bello lottare. La salvezza è più vicina quindi dopo questi risultati e voi forse potete giocarvela davvero con chiunque, anche con le prime della classe nelle prossime partite, in attesa poi di quelli che saranno gli scontri diretti alla terza, ultima e alla penultima, ma verso i quali manca ancora diverso tempo. Sì, noi giochiamo per provare a vincere contro tutti, ovvio, ci sono giocato contro l'MF, loro bravi, hanno vinto, però ci sono giocato alla pari lo stesso, ma è giusto, poi in casa è giusto che lotti per l'obiettivo, tutti quanti vogliamo salvarci e ci togliamo qualche soddisfazione come sta succedendo adesso, però con i piedi per terra perché la salvezza comunque è ancora lontana. Grazie.